Per la cronaca stradale segnaliamo due incidenti, per fortuna senza non gravi conseguenze, che sono avvenuti il primo nella mattinata alle 8.50 in Viale Campielisi con l'incrocio di via San Marco prima del supermercato PAM, coinvolto una Volkswagen Passant guidata da CS di 50 anni e una moto Yamaha guidata da PR di 49. Ad averla peggio ovviamente la donna alla guida delle due ruote che è stata soccorsa da un'ambulanza dei Giovanniti nel servizio del 118. La motociclista è stata poi trasportata a Cattinara per le cure e gli accertamenti sul posto per gli lievi la polizia locale. Secondo la ricostruzione la dinamica ha visto la Passant impiegare l'incrocio con l'intento di prendere la direzione delle teorie d'Europa, quando la donna che percorreva via le Campielisi in direzione a Rive ha visto l'auto affrenato bruscamente per evitare di andare a sbattere. L'hanno affrenata, ha scomposto la moto che poi finita a terra portando con sé anche la motociclista. Spostiamoci in via Caboto, sede dell'altro in Cirente che si è verificato nel pomeriggio attorno alle 15.00 quando in via Caboto c'è stato uno schianto coinvolto in una Fiat Punto ed un camion di medie dimensioni. Alla guida dell'auto c'è un tristino del 36 che non ha rispettato il segnale di stop. Il fatto è accaduto all'incrocio tra via Caboto e via Malaspina. L'urto è stato tanto violento da far ruotare l'auto di 180 gradi lasciandolo in posizione contromane. Inoltre gli operatori della polizia locale giunti sul posto insieme al 118 hanno notato che il muso dell'appunto è stato completamente spostato dall'asse centrale. Fortunatamente il signore di quasi 80 anni non ha riportato gravi danni come così la sua auto a soccorso degli operatori sanitari e poi sceso sulle sue gambe riservandosi la possibilità di controlli più accurati successivamente autonomamente.